Quanto è americana la sinfonia dal nuovo mondo di Dvorak? Fiumi di letteratura sono stati scritti sull'argomento già dal giorno della fortunata prima alla Carnegie Hall di New York, il 16 dicembre 1893. Dvorak dichiarò, in parte mentendo, di non essersi avvalso di alcuna specifica melodia dei cosiddetti Native Americans, ma di aver composto temi in tutto e per tutto originali. E c'è dell'altro, il compositore boemo aggiunse addirittura che la musica degli afroamericani e degli indiani d'America possedeva molti tratti in comune con le sonorità scozzesi, probabilmente per via della scala pentatonica tipica di queste tradizioni. Leonard Bernstein, che più volte diresse con grande trasporto la sinfonia dal nuovo mondo, dichiarò in tempi più recenti che non esisteva al mondo opera più universale di questa. In essa potevano ravvisarsi tratti della tradizione francese, di quella tedesca, cieca e persino cinese, universalità tipica di tutta la cultura americana che nasce dall'interazione osmotica tra indigeno e straniero. L'esperienza americana di Dvorak nel suo insieme è dunque un fecondo incontro di tradizioni e stili, testimoniando inequivocabilmente il dinamismo della società moderna, multiraziale, multilingua, multiculturale e progressista.